Biscotti ovis mollis. Mettiamo la farina, la fecola, lo zucchero a velo, il pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone in una scodella. Mescoliamo, mettiamo il burro a pezzi e setacciamo i rossi sodi. Lavoriamo per bene, impastiamo fino a ottenere un panetto morbido, pellicola un'ora in frigo. Stendiamo il panetto, formiamo i nostri biscottini a proprio piacere ovviamente, facciamo un buco al centro in alcuni e poi inforniamo a 180 gradi per circa 10-12 minuti. Mettiamo un po' di zucchero a velo, farciamo con nutella alcuni biscottini e poi alcuni li ho fatti anche con della marmellata, sempre a piacere ovviamente. Questo è il risultato finale, sono dei biscotti veramente buonissimi, friabili, praticamente si sciolgono in bocca, li consiglio, un bacione.